buongiorno a tutte oggi un piccolo video acquisti acquisti effettuato sul sito semplici bijoux il sito di direne che tutti conosciamo ho effettuato quest'ordine perché avevo bisogno di alcuni materiali in quanto ho molte richieste di anelli orecchini bracciali e quindi ho dovuto a questa alcune cose perché alcuni colori mi mancavano devo dire che quest'ordine è stata un'impresa questa volta in quanto molte cose mancavano probabilmente per il black friday tutte hanno hanno fatto grandi spese e quindi alcune delle cose che mi servivano non le ho trovate e niente alcune cose le ho anche acquistate perché sappiamo che c'è il contest di lisart e quindi sto realizzando un mio gioiello e ho dovuto appunto fare questi acquisti allora parto col col mostrovi queste semplici rocaille color oro 50 grammi c'era il pacchetto convenienza e quindi ho deciso di acquistarlo perché all'inizio avevo acquistato le bustine ma poi sono arrivate le rocaille ho scelto di fare un pacchetto convenienza da 50 grammi poi ho acquistato queste che sono le kite beads color red questo bellissimo rosso davvero stupendo ovviamente con questo devo realizzare una creazione natalizia poi ho acquistato come bicono mi servivano i biconi della preciosa quelli color crystal AB ma erano finiti mi avevano chiesto un anello interamente con i bicono e avevo anche preso il color rosso AB perché mi serviva per una creazione natalizia ma anche quelli erano esauriti ho trovato soltanto disponibili questi sono da 4 mm della preciosa il zircon matta b 50 pezzi molto bello stupendo questo valore il siam avevo scelto ma non c'era più poi ho acquistato due colorazioni di moby duo ho acquistato queste il crystal etched slipper it full è bellissimo questa colorazione ovviamente come già sapete i viola i fucsia e lilla sono le mie tonalità preferite infatti guardate il mio colfino ecco qui una bustina da 30 pezzi e poi invece ho preso anche bianche due bustine in questo caso perché mi servivano non so come mai ma spesso mi richiedono degli orecchini delle collane che siano completamente bianche quest'estate perché andavano bene sulla bronzatura l'inverno perché per il via della neve comunque mi sono un attimo fornita anche del bianco perché mi viene richiesto spesso la mia gattina che fa casino la trovatella questo è moby duo due bustine il child white non sono ferrata in inglese quindi lo leggo come sta scritto o come ho sentito che lo pronunciano alcune persone allora poi ho acquistato due colorazioni di epicono no di rivoli scusate di rivoli da 14 mm ho acquistato questo è il color volcano bellissimo ovviamente è uno dei miei preferiti visto che io adoro queste colorazioni questo da 14 mm ho acquistato anche questi sono i rivoli child white da 14 mm ne ho acquistati ben 22 che mi servono su diversi ordini sono stati effettuati anche per un'altra creazione che poi vi mostrerò in seguito in video e me ne serviranno penso una decina ecco questi sono i rivoli da 14 poi ho acquistato quelli da 16 da 16 mm ho acquistato questi color sapphire bellissimo poi ho acquistato questo il color montano stupendi poi quattro bustine di rivoli neri jet color jet eccoli qui io adoro il nero il mio colore preferito ovviamente questo qui lille il viola il fucsia tutte le tonalità perché sappiamo bene che il nero non non è effettivamente un colore non è catalogabile tra i colori e quindi diciamo che il nero è il mio preferito in assoluto poi ovviamente dobbiamo scegliere i colori i colori sono sono sulle tonalità del fucsia ma il nero e il fucsia sono due tonalità che io che io adoro poi ho comprato anche questi qui che sono il light rose due pezzi sempre da 16 stupendo questo rosa mi viene chiesto spesso quindi l'ho preso come scorta che diciamo che già ce l'avevo e poi ho preso lo smoking topazio è un magnifico questo colore d'altronde sono colori i colori sono tutti belli soprattutto per noi artiste ovviamente abbiamo i nostri preferiti ma un artista ama e adora tutto ciò che riguarda l'arte quindi i colori sono una cosa importante per noi perché combinare varie colorazioni e creare un bijou unico grazie alla nostra fantasia e agli abbinamenti che a volte sono davvero spettacolari con i rivoli da 16 ho finito poi ho preso 3 colorazioni di rivoli da 18 ho preso questo il black diamond eccolo qui sembra un grigio bellissimo poi ho preso un giallo perché vorrei realizzare qualcosa per mia madre per natale perché lei adora il giallo lo ama proprio è il suo colore preferito e quindi ho preso questo topaz da 18 il mio gatto che grido vabbè poi ho preso il sapphire da 18 bellissimo niente lo trovo stupendo ecco qua infine mostro altri due tipi di perline ho acquistato ho acquistato queste che sono le etched crystal full slipper sono le drop 2 ho preso due bustine di questa colorazione magnifica e due bustine di queste che sono etched crystal full azzurro sono bellissime infine ho preso queste che sono diciamo le mie perline preferite e stiamo parlando delle bisli rispetto alle ginco le drop 2 le diamo un duo non lo so dopo i biconi le mie preferite sono le le pisli due ho preso questo c'è il white luster una bustina bellissima bianco poi ho preso questo che è un turquoise magnifico queste che appena le ho viste mi sono innamorata sul sito e devo dire che non deludono sono magnifiche sono le jet coppe splash sono magnifiche poi ho acquistato queste che sono le jet e matite è un bellissimo colore non l'avevo mai preso e non mi pento davvero stupendo è questo qui che sembra tipo un confetto bellissimo questo bianco con questi splash quello roro rosa e si chiamano charl copper splash sono stupende infine ho comprato queste le ho lasciate per ultimo perché sono le più costose ma sono davvero stupende ho trovato per la prima volta finalmente le cercavo da tanto queste pisli jet laser line mat le laser che che costano mi sembra che una bustina è costata 3 euro però la differenza è che questa sono 10 grammi e sta 2,70 euro ad esempio o questa sta 2 euro comunque sono 10 grammi queste stanno 3 euro e sono 5 grammi ovviamente sarà per via del laser perché sono delle perline molto particolari però sono davvero magnifiche ho trovato solo due tipi finalmente perché non le ho mai trovate le ho cercate diverse volte dopo che vedevo che altre creative le utilizzavano andavo sui siti ma non riuscivo a trovarle sempre esaurite o proprio non trovavo la pagina e l'altro giorno su Renè le ho viste ho deciso di acquistarle quindi ho preso queste che sono le laser line matte e queste qui a forma di fogliolina che sono bellissime e sono le jet laser lef matte anche queste 3 euro a bustina 6 euro 10 grammi però valgono davvero la pena perché sono davvero stupende sono magnifiche e niente ovviamente Renè mi ha graziato del suo omaggio come sempre e mi ha mandato questi perni color oro rosa bellissimi mi mancavano poi questi altri perni evidentemente che sono a clip io avevo effettuato anche quest'ordine perché avevo avuto un'ordinazione di un paio di orecchini al logo però con la clip e Renè al momento ne era sprovvista e quindi ho dovuto aspettare siccome poi è partito il contest di Lizart siccome devo iniziare a creare la mia idea alcune di queste perline mi servivano e quindi ho avviato l'ordine quindi poi appena riceverai i perni che mi serviranno li farò un secondo ordine e intanto però mi ha mandato questi molto carini poi mi ha mandato una bustina di queste rocaille suppongo siano 11.0 si 11.0 bellissimo questa colorazione non l'ho mai avuta né utilizzata una specie di rame oro ramato lo dà più color oro però sono differenti ecco la differenza però devo dire sono stupende se riuscirò a fare qualcosa di carino penso che le comprerò poi mi ha mandato sicuramente per via del Natale questa lette per angioletti davvero bellissime tanto carine mi servono anche perché le ho dovute le ho dovute utilizzare per fare alcune alcuni orecchini che mi avevano chieste le avevo finite e me le sono ritrovate come omaggio da parte di René e poi infine un filo di di cipollotti penso che siano 3x2 questa bellissima colorazione nero nero cioccolato nel video sembra nero ma è più marroncino comunque è questo che è questo filo di cipollotti niente con questo ho finito la carrellata del mio ordine con questo vi saluto vi ringrazio per aver visualizzato il mio video e alla prossima ciao